Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di prodotti low cost, i miei top del periodo e quelli soprattutto super super consigliati, come dire io. Però ci tengo a fare una premessa di inizio video, perché magari il video non lo guardate tutto e ci tengo insomma a farvi sentire questa cosa qua. Io vi volevo ringraziare tutti quanti, tutti e tutte, gli iscritti di sempre, i nuovi iscritti, perché il canale sta raggiungendo un traguardo importante e quindi io sono veramente molto molto contenta, molto molto felice, vi volevo ringraziare per la vostra presenza e per il vostro affetto. Quindi ho detto lo faccio prima, perché poi magari poi alla fine non lo ascoltano. Quindi un bacione veramente a tutti quanti. Allora partiamo subito con i prodotti low cost, quindi prodotti che costano poco e che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, prodotti appunto che mi sento di consigliarvi. Allora il primo è un prodotto che potete trovare da Lidl, sempre di Sien, ed è un prodotto nuovo appena uscito. Io questo l'ho già provato, non ho fatto chissà quanti utilizzi, ma mi è bastato un utilizzo per capire che è un prodotto identico, è in pratica un dupe, una maschera dupe di un prodotto già esistente. Ed è alle stesse caratteristiche, la stessa profumazione e mi è piaciuto moltissimo. Sto parlando di questa banana Air Mask di Sien della linea Air Fruits. Questa maschera 3 in 1 per capelli secchi. Io credo che questa maschera voi possiate tranquillamente ancora trovarla da Lidl e mi auguro appunto che sia uno di quei prodotti che rimarrà in gamma permanente o comunque che loro riproporranno in alcuni periodi dell'anno. Io ho preso questa alla banana, ma se non ricordo male c'è anche una versione alla papaya. E questo è un prodotto vegano, ha all'interno il 98% di ingredienti di origine naturale, poi cosa abbiamo dermatologicamente testato e ha questo profumo di banana pazzesco. Vedete, si presenta così, è una maschera appunto bianca per capelli che può avere tre tipi di utilizzo. Allora, il primo utilizzo si può utilizzare sui capelli bagnati e quindi utilizzarla proprio come maschera o come balsamo e quindi da tenere su magari un minuto come balsamo e magari 3-4 minuti per farla agire ancora più in profondità. Ma può essere utilizzata anche sui capelli bagnati prima di procedere all'asciugatura. Quindi per lo styling può essere utilizzata appunto per definire i ricci, per esempio se abbiamo i capelli ricci, ma secondo me può essere utilizzata sui capelli bagnati per rendere molto più facile la spazzolatura durante appunto la stiratura dei capelli. Ha una profumazione buonissima, ma veramente super super buona, sa veramente proprio di banana, di frutto e non so se può essere utilizzata anche come impacco per shampoo, ma la voglio provare. Magari inumidendo un po' i capelli, mettendo un po' di prodotto e lasciandola agire, magari con una cuffietta in testa, lasciandola agire, non lo so, per mezz'ora o un'ora tenendola su, insomma, credo che male non faccia. Perché è una maschera nutriente ed è perfetta per i capelli secchi. Quindi un super low costone, super consigliato. Sempre per quanto riguarda i capelli da Tigotà, se vi ricordate vi avevo mostrato di questo brand il bagnoschiuma, ma io sono riuscita a scovare, e me ne sono follemente innamorata, questi li ho usati anche abbondantemente, sono riuscita a scovare di Naturalium lo shampoo e il balsamo. Questa linea pazzesca, anche qui appunto prodotti low cost, alla mandorla e pistacchio, con questa profumazione, credetemi che è tutta da mangiare. Allora ho preso lo shampoo, che è uno shampoo che non ha parabeni, non ha coloranti, né fenoxietanolo, né ftalati, ed è appunto uno shampoo per capelli secchi. Ed è questo qui, è un bel boccione da 400 ml, mi pare che costi intorno ai 2,80 euro, qualcosa del genere, con una profumazione semplicemente paradisiaca, buonissima, molto nocciolata, molto dolce. E questo è uno shampoo che mi piace molto perché fa una schiuma proprio bella morbida e corposa. Serve poco poco prodotto, quindi non dobbiamo abbondare perché altrimenti facciamo fatica a sciacquarlo. Lava benissimo il cuoio capelluto, è molto molto delicato, ma mi dà proprio la sensazione di lavare bene i capelli. E poi in combo utilizzo il balsamo, questo è un balsamo appunto alla mandorla e pistacchio, sempre per capelli secchi. Non vedo un tubo perché non mi sono portata gli occhiali. Comunque rispetta assolutamente, guardate è venuto fuori un po' di prodotto, rispetta assolutamente la profumazione appunto tipica del bagno schiuma. Quindi questa profumazione è molto molto dolce, che sa proprio di nocciole tostate. E sui capelli la profumazione è veramente dura tantissimo. È un ottimo balsamo perché sento proprio quell'effetto districante, quell'effetto bello addolcente. I capelli quando li vado a risciacquare sono proprio docili docili, molto molto leggeri. E quindi anche questo è uno stra super consigliato. Allora, sempre per quanto riguarda i capelli, ve lo avevo già mostrato nella versione alla mandorla e mirtilli, se non ricordo male. Ma ho voluto acquistare anche questo alla fragola. La linea è anticherboristeria, quindi che troviamo tranquillamente anche nei supermercati. E questo è un nuovo prodotto, sempre tre in uno. Balsamo, maschera e trattamento dopo shampoo. E questo in particolare alla fragola è semi di chia, per capelli danneggiati. Quindi va bene anche per capelli secchi. E quindi è molto molto nutriente. Questo è un prodotto formulato per il 100% con ingredienti di origine naturale. Allora, tre in uno, quindi stavamo dicendo, può essere utilizzato come balsamo. Quindi una volta fatto lo shampoo, può essere applicato sui capelli, una volta sciacquato per bene, facendolo agire qualche minuto. Poi può essere utilizzato come maschera, quindi lasciato su magari quei 10-15 minuti. Oppure come trattamento dopo lo shampoo, sui capelli bagnati, sulle punte, è eccezionale. Soprattutto se abbiamo i capelli molto secchi e ricci, quindi hanno quell'effetto un po' crespo. Questo disciplina moltissimo il riccio. Non appiccica, non appesantisce e conferisce ai capelli questa profumazione di fragola che è semplicemente strepitosa. E poi guardate il packaging, è veramente molto molto carino. Quindi anche questo molto consigliato. Poi ho scoperto da Cadoro una linea pazzesca e ci sono tantissime versioni per le varie esigenze. Quindi non so, c'è la formula all'argan che è elasticizzante, c'è una formula all'olio d'oliva che è una versione nutriente, c'è una formula al melograno che è appunto rigenerante, antiossidante. Io ho voluto prendere, tanto per cambiare vista la mia fissa, la versione al cocco che ha un effetto sulla pelle nutriente. Allora, il brand si chiama Natura Oil, sono dei prodotti certificati bio, sono veramente super low cost perché entrambi costano intorno ai 3 euro, mi pare la crema corpo sui 2 euro è qualcosa, qualcosina di più, forse l'olio ma siamo sempre intorno ai 3 euro. E trovo questi prodotti appunto al supermercato Cadoro. Allora, l'olio è un olio dermatologicamente testato ed è un olio appunto corpo nutriente con bio olio di cocco ed è un prodotto senza slas, senza peg, senza siliconi, né parabeni e né coloranti. In questa boccettina in plastica che quindi possiamo portare anche con noi magari durante un viaggio e non rischiamo appunto di romperla, ha un effetto nutriente, io questo l'ho già utilizzato, l'ho già provato, ho pochissime gocce, può essere mescolato quest'olio anche ad una crema corpo, perché no, quindi o a questa per aumentarne ancora l'effetto nutriente o a qualunque altra crema, poche gocce di quest'olio e andiamo proprio a nutrire la pelle. Se utilizzato da solo, sia sulla pelle asciutta che sulla pelle bagnata, ha un effetto sedificante, lisciante, poi la pelle appare bella luminosa e ha una profumazione che è divina, quindi se vi piace il cocco ve lo straconsiglio. Stessa cosa dicasi per la crema. La crema l'unico difetto che ha è che non si assorbe molto facilmente, va massaggiata tantissimo fino a completo assorbimento, ma è comunque molto leggera una volta che si va ad asciugare perché non lascia la pelle eccessivamente grassa, quindi si asciuga completamente, dona alla pelle questo aspetto molto idratato, molto elastico, molto luminoso e poi anche la crema ha una profumazione pazzesca. È ovvio che utilizzati in combo, quindi mettendo alcune gocce di olio nella crema, l'effetto è ancora più nutriente e anche più profumato, senz'altro. Poi, per quanto riguarda sempre il corpo, volevo, anzi, prima parlarvi di quest'altro olio, quindi sono nella fase oli profumati, scusate ma hanno suonato e quindi i cani, forse è il corriere, non lo so, e quindi i cani stanno facendo un casino. Ho scoperto questo prodotto, guardate, cioè, l'ho già utilizzato parecchio ed è strano per un olio perché io ci metto tantissimo a finirli proprio perché ne utilizzo poche quantità, però questo lo sto utilizzando veramente tutti i giorni ed è un olio di Nivea che esiste già in commercio da diverso tempo, c'è anche una versione con olio di avocado che forse ho usato qualche anno fa, stavolta ho voluto provare quest'olio setificante corpo che agisce 24 ore con un prezioso olio di mandorle ed è perfetto per pelli secche e molto secche. Allora, a parte il packaging che è bellissimo, con questo colore blu, vabbè, comunque che è tipico dei prodotti di Nivea, questo prodotto è stupendo, ha una profumazione delicatissima che mi piace moltissimo, tra l'altro è molto rilassante, soprattutto applicato la sera, mi rilassa tantissimo, continuo sempre ad annusarmi perché ha questa profumazione molto molto gradevole e delicata, non sa di mandorle, ve lo dico subito, c'è all'interno olio di mandorle che quindi lo rende perfetto per elasticizzare la pelle, perfetto per essere usato magari sulle smaiature, per rendere la pelle un pochino più elastica e soprattutto, essendo un olio secco, utilizzato sulla pelle asciutta, si asciuga immediatamente senza lasciare assolutamente la pelle unta. Quindi anche questo straconsigliato, tra l'altro è un prodotto che si trova facilmente nella grande distribuzione. Altro prodotto che vi straconsiglio, ma questo l'avrò pagato tipo 99 centesimi, pochissimo da Tigota e c'è tutta una nuova linea dedicata alle profumazioni estive. Questo in particolare si chiama Mojito Club ed è questa nuova linea Badedas, questo in particolare è il bagno doccia rinfrescante con menta fredda. Ho preso già tre flaconi, uno con Manu lo abbiamo portato a termine, è strepitoso, ha una profumazione buonissima perché sa proprio di cocktail e soprattutto sa di menta, ha una menta freschissima e non ha un effetto super super ghiacciato sulla pelle. Io in realtà lo avevo acquistato sperando in questo genere di effetto, però ha un effetto veramente super rinfrescante e quindi trovo che nelle giornate particolarmente calde un prodotto del genere fa la differenza, soprattutto la sera quando siamo stanchi morti e abbiamo addosso una giornata di lavoro, questo ha un effetto veramente rigenerante e rinfrescante e poi vi dicevo un super low cost. Poi ho fatto questa scoperta, non avrò scoperto l'America perché probabilmente esiste da un po', però io vi devo assolutamente consigliare questo sapone liquido per le mani di felce azzurra del quale io ho voluto provare anche il bagno schiuma, però con Manu abbiamo notato che il bagno schiuma non ha la stessa profumazione intensa di questo sapone liquido che poi in realtà, sì, è un sapone liquido, non è detto che sia per le mani, volendo potremmo anche lavarci il corpo, dico non ce lo vieta nessuno, ed è la linea addolcente con miele e latte di riso. Allora, questo prodotto innanzitutto ha una profumazione paradisiaca e lascia le mani belle, morbide, non secca assolutamente, ma questa profumazione è il paradiso. Voi sapete che io ultimamente sono nella mia fase miele e questo prodotto profuma assolutamente di Scandal, del profumo Scandal. È identico! È come in pratica acquistare il bagno doccia della versione Scandal di Jean Paul Gaultier spendendo un decimo. andatelo a sentire, nel senso provate a fare questo acquisto, tra l'altro costa pochissimo, e mi direte, è vero, hai ragione, ovviamente se vi piace il miele. È un prodotto eccezionale. Abbiamo preso anche il bagno schiuma, però devo dire che non è soddisfacente la profumazione, intendo proprio come il sapone liquido. Dopodiché, volevo parlarvi anche di questo prodotto, di Cien, che ho preso sempre da Lidl, che è la fine del mondo. Allora, la linea è appunto la Summer Limited Edition, però ho visto che insomma da Lidl è strapieno ancora di questi prodotti. Il prodotto in questione della linea appunto Tropical Summer è il Barefoot Spray, ed è questo spray pazzesco, che ha questo effetto super freddo e super rinfrescante sui piedi, nonché una profumazione meravigliosa. quindi, visto che adesso cominciamo a mettere le scarpe aperte, insomma i sandali, gli infradito e così via, è uno straconsigliato, secondo me, un must have, perché lo possiamo portare in borsa, quindi spruzzarlo sui piedi in qualunque momento della giornata, non unge, non bagna i piedi, è semplicemente uno spray che va a rinfrescare il piede e a deodorarlo, è strepito, secondo me è perfetto anche prima di infilare il nostro piedino, magari in una decolletè, lo rinfreschiamo, lo rendiamo bello profumato e liscio, e poi sarà più semplice, secondo me, stare sui tacchi con un prodotto del genere, straconsigliato. Dopodiché, vuoi che io non vi citi in un video del genere dei profumi, in questo caso, visto che il tempo, insomma, fa sembrare che siamo in autunno, però facciamo finta di essere già in estate, visto che tra qualche giorno lo è veramente, allora, vi cito due body mist, allora, questa è semplicemente strepitosa, allora, il brand è English Garden, questi prodotti si trovano nelle profumerie, li trovate da Acqua e Sapone, li trovate da Tigotà, al Tulipano, non è difficile reperire, insomma, questi prodotti. C'è tutta una linea dedicata al miele, ed in particolare, questa si chiama la linea Royal Jelly, ed è bellissima, una linea appunto al miele, alla pappa reale, abbiamo il bagnoschiuma, c'è anche un burrocorpo strepitoso, però io qui vorrei parlarvi appunto di questa body mist, di questa body mist che è appunto miele puro, miele puro, dolcissima, densa, cremosa, goduriosa, e devo dire che per essere una body mist, ha anche una buona persistenza, soprattutto se andiamo ad intensificarla, applicando sotto appunto una crema corpo, ne esistono diverse al miele, c'è Johnson per esempio, che fa appunto una crema corpo al miele, c'è anche la versione dei tesori d'oriente, per esempio, al miele, no scusate, di ultra dolce di Garnier, la linea tesori di miele, c'è sia il burrocorpo che la crema corpo, quindi applicando una crema di quel tipo, e poi spruzzando un po' di body mist, non andiamo a far altro che intensificare, questa profumazione che è già buonissima, e anche parecchio persistente per essere una body mist, e poi voglio citarvi di Avon, questa nuova uscita, della linea Avon Naturals, si chiama Aloha Monoi, io ho preso tutta la linea, che comprende anche un body scrub, un bagno doccia, e poi non mi ricordo che cos'altro, speravo facessero il profumo, ma hanno fatto questa body mist, che so già, insomma, non è una body mist, sapevo già che non fosse un prodotto estremamente persistente, anzi, non lo è affatto, però devo dire che la profumazione è ben riuscita, è una profumazione al cocco, con cocco e fiore di tigaret, è buonissima, molto fresca, molto estiva, gradevole, in aria di vacanza, però è un prodotto che dobbiamo rispruzzare più volte durante l'arco della giornata, cosa che, devo dire, in estate con le body mist, non mi dispiace assolutamente, quindi promuovo assolutamente la bontà del prodotto, quindi andate a dare un'occhiata, diciamo, al catalogo Avon, perché c'è questa linea al Monoi, aloa Monoi, appunto, che è veramente deliziosa. Per quanto riguarda il make-up, ho solo due prodotti da farvi vedere, sono due super, ma proprio super, super low cost, sono due rossetti, allora, il primo, che ha avuto tanto, tanto successo, perché me lo avete chiesto veramente in tanti, non solo sotto al video, ma anche in direct su Instagram, il rossetto che indosso, e che indossavo anche nell'ultimo video, guardate quanto è bello, rullino e tamburi, costa, credo, intorno ai 2 euro, forse qualcosina in più, però è un brand che si trova soltanto online, credo, anche su Machiaia, non vorrei dire una sciocchezza, però, se lo trovo, ve lo metto giù nell'info box, il link è un rossettino, semplicissimo, della linea dei matt di Giordana, questo è il brand, e il numero è, il numero 60, si chiama Plum, e questo è il colore, ed è veramente un colore strepitoso, soprattutto sulle carnagioni un po' scurette come la mia, capello scuro, occhio scuro, devo dire che, insomma, fa la sua figura, è veramente eccezionale, ogni tanto mi esce qui qualche cornetto, durata pazzesca, è un rossetto, un matt, però non quei matt che asciugano, è molto molto confortevole, dura tantissimo sulle labbra, ha un effetto super acceso, ed è, aiuto, ecco mi sono sporcata, veramente bellissimo, mentre, il secondo prodotto, è un prodotto che ho veramente da tantissimo tempo, e che ho riscovato ultimamente, ovviamente io, non sto indossando i rossetti, in questo periodo, perché, indossando la mascherina, insomma, evito di indossare il rossetto, voi mi direte, vabbè, puoi utilizzare qualcosa di no transfer, e quindi, però, preferisco di no, quindi mi sto, come dire, truccando per registrare video, sto indossando appunto il rossetto, in queste circostanze qui, o quando, eventualmente, magari, devo uscire, o devo, sono andata magari in questi giorni anche in pizzeria, quindi magari ho cercato di, tamponarlo bene, questo perché mi piace troppo, per evitare di trasferirlo sulla mascherina, insomma, non succede niente se ciò accade, ecco, quindi vi faccio vedere gli unici due, che sto utilizzando veramente, con piacere, questo ce l'ho da un bel po', e fa parte della linea, matte effect, di Bella Oggi, ed è un brand che io riesco a trovare da Tigotà, e costano intorno ai 4 euro, sono dei rossetti liquidi ad effetto matte, e questo in particolare è il numero 03, che si chiama Bustier, se non ricordo male, perché non lo leggo, non vedo, allora, classico scovolino, ed è un nude, veramente, super elegante, questo poi si asciuga, è molto, molto confortevole, è una texture sottilissima, questo prodotto, che non va a seccare, tantissimo le labbra, e ha una durata anche notevole sulle labbra, ed è un colore nude, secondo me che sta bellissimo, su tutte le carnagioni, ed è un colore che è perfetto anche, sulla bronzatura, secondo me, quindi, il numero 03, Bustier di Bella Oggi, strepitoso, quindi, io vi ho fatto vedere tutto, questi sono i miei super super consigliati, low cost del periodo, spero che il video, insomma, vi abbia tenuto compagnia, che vi sia stato utile, come sempre, grazie a chi ha visto il video fino alla fine, ma grazie anche a chi ne ha visto soltanto una parte, grazie sempre, vi mando tanti tanti baci, se vi va ci vediamo alla prossima, ciao, ciao, ciao,